E' cominciato in salita il viaggio di 80 giorni della blogger dissidente cubana Ioani Sanchez, finalmente libera di viaggiare grazie alla riforma migratoria. Nella sua prima tappa in Brasile il suo intervento è stato duramente contestato da gruppi di manifestanti che protestavano contro l'embargo anticubano e definivano la blogger un agente della CIA. Ci sono stati anche momenti di tensione tra il senatore brasiliano Eduardo Suplissi che cercava di spiegare ai contestatori che la Sanchez non è affatto a favore dell'embargo. Poi la donna, diventata famosa con il suo seguitissimo blog Generazione Y attraverso cui negli ultimi anni ha duramente criticato il regime cubano finendo anche in carcere, ha spiegato E' stato un cammino doloroso cominciato quando ho aperto il mio blog perché vivo in una società dove le opinioni sono considerate un tradimento dove non si può criticare un governo al potere da 54 anni che non ha mai consentito ad altre forze politiche di esistere un governo che ha usato la censura nella letteratura, nella stampa E anche questo modo di contestare è tipico del mio governo ha detto la Sanchez all'ennesima interruzione Secondo alcuni giornali locali le proteste sono state organizzate da diplomatici cubani d'accordo con esponenti del partito dei lavoratori di Brasilia e alcuni media accusano il presidente brasiliano Dilma Rousseff di non prendere le distanze dal regime antidemocratico di Cuba e di voler anzi controllare la Sanchez Ciao Joky, ciao Joky, ciao Joky Ciao Joky, ciao Joky Grazie.